Dunisiani vedete là sotto? Eh? Lo vedete là sotto? Eh? Beh allora oggi andremo a fare, a trovare una caverna che in realtà l'abbiamo già trovata veramente, perché l'ho cercata io prima, e dobbiamo trovare del ferro, trovare dei diamanti e trovare dei materiali per costruire la casa. Ora non so se ci riusciremo, chissà se ci riusciremo, ma se ci riusciremo avremmo vinto la sfida di oggi, perché questa è la sfida di oggi, e qui con me purtroppo oggi non ci sono i miei amici simpaticissimi come Gabri, Chiara, eccetera, anche Angelo se no si offende, no anche lui è molto simpatico davvero dico eh. Stiamo attenti per l'amor del santo cielo, mi raccomando, controlliamo un attimo questa musica, eh che mi sta, no in realtà dovrebbe essere giusta, io non so se poi dopo voi mi state sentendo, non mi so se, scherzo ovviamente, dovreste sentirmi, allora, qui con me per Hansini, ok dovrebbe durare 20 minuti circa questa esplorazione, quindi adesso io direi di iniziare ad esplorare, Guardate qua ho già trovato del carbone, qua con me, come potete ben vedere, c'è strizza la pizza, strizza la pizza, allora, basta oh creatura del male, altrimenti ti rispedisco da dove ti ho creato e da dove ti ho trovato, ovvero negli inferi demoniaci degli astri volanti, oh creatura non farmi innervosire, a volte strizza la pizza mi fa innervosire, Ha detto che si è spaventato molto per questo mio innervosimento e mi spiace strizza la pizza ma quando Dunice decide che è così una cosa, deve essere così perché altrimenti sono tutte corbellerie, eh, e quindi, e quindi, vabbè niente, insomma, allora, prendiamo della, chi ha capito queste due citazioni in tre secondi, eh, è veramente un genio, è veramente un genio, E nessuno lo capirà giustamente perché le so solo io veramente, quindi, magnifico, no? Allora, hai di rinettere una torcia perché è assolutamente fondamentale, abbiamo già trovato del ferro, però dobbiamo ricordarci i donisiani che è anche molto importante, svegli, cioè nel senso, andare veloci, no? Perché 19 minuti sono po', cioè ci restano circa 19 minuti, circa, no vabbè, più o meno, eh, dico, ovviamente, non è che, cioè, non è che 19 minuti in punto, è 19 più o meno, però, qua tipo, c'è un qualcosa che non quadra qua, e dobbiamo anche trovare degli amanti, questa cosa sarà impossibile, Poi, fra l'altro, mi vedrete fare pochissimi, pochissimi tagli, oh, porca miseria, stavo scherzando, vai via immediatamente, oh, creatura del male, io non ti ho invocato, non ti ho convocato, ragno dei demoni, degli inferi demoniaci trogloditi, Perché come voi ben sapete, i trogloditi sono gli abitanti delle caverne, come no? Sì, si chiamano, sono proprio gli abitanti delle caverne, e io in questo momento, sono un abitante delle caverne, proprio come i ragni schifosi, quegli esseri, veramente, non ho parole per descriverli, perché come potete ben vedere, non mi viene niente in mente, purtroppo, ahimè, ahimè, purtroppo anzo, però, come potete ben vedere, anche qua, eh, ci sono degli zombie, E questi zombie mi stanno assolutamente sfidando, mai sfidare Dunis, perché Dunis, si arrabbia, oh, porca miseria, vai via, vai via immediatamente, non, non ti permettere, ah, non, allora, vergognati tu, creatura, non ti permettere mai più di venire, con la mia spada, cioè nel senso, con la spada, ad uccidermi, ad infilzarmi, perché non ne usciamo più fuori, io ti denuncio, creatura del male, veramente, ma io, io, boh, basta, sono stupidi questi zombie, impertinenti, no, dunisiani, dobbiamo, dobbiamo convocare la Mojang, che è la casa produttrice di Minecraft, e dovevano dirgli, che i loro zombie sono troppo maleducati, questa cosa non va bene nei confronti di Dunis, come si permettono solamente loro, di, di comportarsi in questo modo troglodita, Eh, lo so che sto scavando con il piccone, ma, fate vinta di niente, non lo dite a nessuno, cioè, vabbè, ovvio che sto scavando col piccone, con cosa devo scavare, con le chiappe? Non so, cioè, con le chiappe è un po' impossibile, allora, a parte che non so, cioè, probabilmente, ehm, ve ne starete già andando, perché io sto scavando, tipo, sto scavando con il piccone, è un po' noioso, immagino, vedermi scavare con il piccone, Però è importante, perché anche questo episodio serve a, a costruire la casa e a trovare i materiali, perché vi devo far vedere quello che trovo, no? Certo, non sempre, a volte, a volte no, dipende, dipende dalle situazioni, dipende dai episodi, dipende dai video, dipende dalle serie, dipende da tutto, no? Cioè, mi sembra abbastanza chiaro come cosa, tipo, qua c'è un altro ferro, adesso inizio a prenderlo, e però faccio un taglio, che è meglio, no? Voi che dite? E comunque l'armatura in ferro ce l'abbiamo, duniziani, eh? Quindi abbiamo completato la prima sfida, avere almeno l'armatura di ferro, non so se l'avevo detto all'inizio del video, vabbè, eh, avere l'armatura di ferro, no? Ah, qua c'ho altro ferro, porca miseria, quanto ferro che c'è, devo fare un altro taglio. Mi ero perso un attimo a prendere del carbone, ma devo, perché il carbone è necessario, e il mio timer segna ora, ora, 14 minuti e 46, perché appunto ho fatto dei tagli, quindi, ehm, ovviamente, no? Cioè, mi segna questo, questo tempo qua. Allora, devo andare da questa parte, o creatura del mare, e qua abbiamo trovato una cosa molto importante. Questa qua è una mineshaft, ora, sarebbe molto bella esplorarla, ma ricordatevi del nostro, diciamo, della nostra sfida. Che cos'è che dobbiamo fare noi ora? Allora, a parte prendere le torce e metterle, perché sennò, eh, eh, Duniz, ricordati le torce, perché sennò poi dopo che caspita fai? Però, allora, qual è la nostra sfida, Duniziani? La nostra sfida è trovare i diamanti, oltre che, cioè, oltre il ferro, l'armatura in ferro che ci siamo fatti, oltre gli zombie, è trovare i diamanti. Poi, qual era l'altra sfida? No, seriamente, mi sono scordato qual era l'altra, il terzo, ah, sì, dei materiali per la casa. Ma i materiali per la casa, cioè, per esempio, è anche la cobblestone, quindi abbiamo in teoria già completato, perché, vabbè, tipo, due sfide erano già completate. Ora ci mancano 13 minuti e 48, e devono trovare i diamanti. Allora, 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 è fattibile, dico ancora una volta allora, giusto per rincanare la dose, no? Non so cosa ho detto, non so nemmeno se si dice così. Vabbè, fatto sta che comunque è molto importante ora andare a scendere giù in profondità, perché circa ora siamo alla, ad un livello di, non so, perché non posso vedere ora, perché devo fare un dark, orca, questo scheletro schifoso. Devi andare via, tu ti devi spaventare! Che cringe, quel meme, scusate, non lo farò mai più, perché quel meme era molto cringe e molto vecchio, oppure, quindi, quale boomer io sono. E poi, scusate, ma voi vi ricordate il meme? Un meme vecchissimo, ma tipo di anni ed anni fa, non so se, non so se, non so, non so se eravate nati. Perché io sono nato tipo nel 1347, no? E, scherzo ovviamente, e praticamente quel meme era 118, chiamate un po' il 118, scrivetemi nei commenti se vi ricordate di Kissi. È molto, molto brava lei, io sono un suo fan, però penso che non, vabbè, lasciamo perdere. Cioè, nel senso, non so se sia ancora viva, perché, appunto, io essendo molto vecchio, non so, certo che sono andato proprio in un campo che non dovevo andarci. Allora, qua ho trovato un'altra, un'altra cosa, esattamente, un altro canyon, dove io praticamente posso andare e, andando da questa parte, esattamente sotto in teoria, qua si potrebbero trovare i diamanti. Eh, c'è il ragno schifoso, vai immediatamente via, oh creatura, non ti presentare dinnanzi al mio cospetto, altrimenti sarò costretto a friggerti nella friggitrice postale. Perché, giustamente, nella posta, no? Dove voi andate a spedire le bollette, oh, non so che caspita si fa nella posta, c'è una friggitrice. Dove serve per friggere la posta, appunto. È molto importante come cosa, no? È fondamentale, io direi, come situazione. Oltre al fatto che là ci sono delle cose, io direi di scaglionarmi direttamente qua sotto ed andare a esplorare questa parte di mappa che sicuramente ci porterà ad un esito positivo della nostra sfida, siccome qua sicuramente troveremo degli diamanti bellissimi. E non so perché sto parlando in questo modo, sinceramente, cioè, devo ritornare un pochino più terra-terra, cioè nel senso almeno con il vocabolario. Ma che cosa sto dicendo? Ma scusate, ma sono impazzito. Dunis, allora, porca miseria, Dunis, se ti permetti ancora una volta di dire una caga... Non mi fate dire, perché non posso dirlo. Se ti permetti di dire ancora una volta una cavolata di questo tipo che non... Eh, io ti do uno schiaffo, Dunis. Te lo do, sai? Lo schiaffo, non penso. Cosa pensate? Dai, per favore! Vabbè, allora, mi serve... Mi serve un secchio d'acqua, io non ho il secchio d'acqua. Questo è un problema. Dunisiani stavo per cadere. Allora, qua c'è del ferro che non prendo, ovviamente, perché figuriamoci. Però mi serve, dobbiamo scavare questo muro. Perché... Forse, andando da questa parte, troverete... Oh, caspita. È la fine, Dunisiani, mancano dieci minuti e noi non troveremo mai dei diamanti. Allora, non disperiamo, non disperiamo. Allora, mancano dieci minuti, ok, Dunisiani? Dieci minuti. Voi direte... Eh beh, Dunis, sono tantini dieci minuti. Sì e no, sì e no. Mi devo sbrigare, perché qua praticamente devo mettere a cuocere il ferro. Magari con il carbone, non con la pietra, Dunis. Adesso faccio un taglio. Velocemente crafto un piccone. Molto importante il piccone, sì. E poi cos'altro crafto? Il secchio d'acqua. Che è fondamentale il secchio d'acqua. Poi tipo l'armatura, eccetera, la faremo dopo. Però adesso dobbiamo trovare i diamanti, mannaggia. Perché sennò perdiamo la sfida. E non dobbiamo minimamente perdere la sfida, accidenti. Mancano 9 minuti e 53. Adesso faccio un taglio e ci vediamo fra poco. No, Dunisiani, ci sono troppe risorse. E io vorrei prenderle, ma non posso perché non abbiamo il tempo della sfida. Allora, qua, in teoria, da quel che Dunis riesce a vedere con i suoi... Oh, porca miseria. E dobbiamo... No, ma che scherzi. Abbiamo bisogno dell'acqua, Dunisiani. Però quest'acqua da dove, caspita, viene dal cielo più alto dell'universo. Che, caspita, è? Ma dove sale? E dai, però, Dunisiani. Piango, aiuto. Piango, aiuto. Eh, oh sì. Posso prendere... Se cadevo sul blocco, porca miseria. Era finito, eh. Era finito. Aspettate un attimo che mi ha spaccato giusto leggermente i timpani, eh. Ma giusto un pochino mi ha spaccato i timpani. No, niente di che, veramente. Comunque adesso noi possiamo praticamente camminare sulla lava. Senza paura che la lava ci possa uccidere. No, scusate, ma io, cioè, per forza, devo un attimo, un attimo far scendere questo volume enorme che mi trapassa i timpani. Nel caso siate curiosi di saperlo, no, giustamente, perché anche voi sarete interessati benissimo a sapere quanti minuti di timer ci siamo. Ma ora siamo a otto minuti e 0-1 e 0-0 ora. Quindi, porca miseria, ci dobbiamo sbrigare, dai. E dobbiamo, per forza, trovare dei diamanti. Se non troviamo i diamanti abbiamo perso questa sfida. Ah, porca miseria. No, no, allora, la sfida non... Cioè, cerchiamo di vincerla perché è molto importante vincere le sfide, no? Perché se no, che senso ha, tipo, dire, eh, adesso vi faccio una sfida, però poi dopo non rispettarla. È come dire, adesso io voglio fare una cosa molto importante della mia vita, però poi dopo non la faccio più. Perché, perché, boh, ho perso interesse a farla. No, dobbiamo... Devi impegnarti a farla, no? E non devi lasciarla indietro. Devi sempre credere in te stesso e nei tuoi sogni. E raggiungere quell'obiettivo con i denti e gli artigli e le cose. Eh, avete... Mamma mia! Che lezioni di saggezza che Dunice vi dà e che da nessun'altra parte sentite. Veramente cose pazzesche. Che sono vere, sono vere. Qualsiasi cosa è possibile quando credi nei tuoi sogni. Credi in te stesso. Credici. Perché io so che se tu mi segui, o comunque so che in generale tu che mi stai guardando, sei una persona meravigliosa. E Dunice si sta commuovendo. Perché è bellissimo, è bellissimo condividere questi momenti di... Questi momenti di, ehm... Bellezza con voi, eh? Che sono momenti di bellezza da Dunice e ne avevo un problema. Allora... Ehm... Potremmo avere leggermente un piccolo problema. Ma è giusto piccolo. Qual è questo piccolo problema? È che noi non abbiamo trovato ancora un cavolo. Non abbiamo trovato i diamanti. Non abbiamo trovato i diamanti. Duniziani sono scemo. Allora, ho un'altra strada da poter percorrere, questa qua. Però io non vi voglio annoiare scavando, quindi adesso faccio un taglio che è meglio. Duniziani! Duniziani, abbiamo un problema! Abbiamo un problema! Siamo impossibilitati a trovare i diamanti dove... Il panico, questo è il panico nodo dove praticamente... Allora, voi dovete sapere che quando... Quando cerchi di raggiungere i tuoi obiettivi nella vita, cos'è che succede? Arriva un momento dove inizi a non credere più tanto in te stesso. Inizi a perdere la fiducia, ma è proprio in quel momento che devi continuare a scavare. Vedete? Proprio come sto facendo io in questo momento. Dovete ancora continuare a scavare per raggiungere i propri obiettivi. E il mio obiettivo in questo momento è trovare i diamanti. Mancano 4 minuti e 54. Ed è possibile, è possibile, è molto difficile. Questo è vero, ma è possibile. Ce la faremo o non ce la faremo? Duniziani? Duniziani, ve l'ho detto, io ve l'ho detto. Quando voi credete in voi stessi, ce la farete. No, proprio Duniz, mamma, quanto è saggio, quanto è saggio. Cioè, duniziani, quando, quando le trovate queste cose sui canali, su altri canali? E quando? Che vi insegnano queste cose, queste lezioni di vita importantissime. Queste lezioni che però, a volte, le persone ve le danno, no? Però non ve le spiegano molto bene. Io vi ho fatto la metafora. La metafora di scavare. E io vi ho fatto vedere che scavando e credendo in voi stessi, fino alla fine, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Però dovete impegnarvi, impegnarvi in questo. Come ho fatto io, scavando questi diamanti, anche voi riuscirete a raggiungere gli obiettivi. Prima possono essere dei diamanti e dopo possono essere un grande progetto per il futuro. Un progetto che vi porterà tanti soldi, oppure tanta, 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 tanta amicizia. Eh? Tante cose. Non so, ognuno ha le sue cose che preferite. Eh? Però, porca miseria, ok. Adesso direi che, visto che non hai raggiunto l'obiettivo, è un diamante. Però, scusatemi, benisiani, ma io direi assolutamente che la sfida l'abbiamo completata a pari... Cioè, proprio completamente. Cioè, abbiamo completato magistralmente. Non so che caspita significa questa sfida. Abbiamo completato questa sfida perché abbiamo creduto nelle nostre capacità. E ce l'abbiamo fatta parlando a bassa voce perché sono un po' stupidino, secondo me. Spero che voi state sentendo, se no mi do gli schiaffi mentre editerò. Perché a volte capita. Mi raccomando, vogliatevi bene. Io so che voi siete bravi. Mua, proprio bellissimi. Mancano due minuti e cinquantatre, ma io direi che ormai, visto che la sfida è fatta... Diciamo che possiamo anche concludere qua questo episodio bellissimo. Io magari continuerò anche a scavare, a trovare nuovi materiali per la casa. Nuove risorse per il villaggio che faremo insieme anche agli altri miei amici. Chiara, Angelo, Gabri, anche Fede, che però non fa video lei. Magari anche altre persone che entreranno sicuramente... Anche voi potrete entrare in questo mondo. Se venite nel link Discord in descrizione potete venire, potete entrare e potete far parte di questo server Discord. Anche voi. E soprattutto, mi raccomando, cosa molto importante, entreranno anche miei altri amici e potrete giocare insieme, eccetera, eccetera. Quindi, chi può entrare, entri. Però dovete avere Minecraft Premium Java Edition comprato dal sito di Minecraft.net. Vabbè, detto questa cosa, è stato molto bello fare questo video, molto divertente. Se siete arrivati fino a questo punto del video, invochiamo a noi il potere di strizza la pizza. Tutte insieme! Strizza la pizza, vieni a me e vattene a quel paè. Perché? Perché strizza la pizza appena ti viene addosso, cioè nel senso, appena arriva da te, fa schifo. Quindi dovete scrivere tutti quanti, strizza la pizza, fai schifo nei commenti, così vi do i cuoricini, vi rispondo, vi... Mua, proprio! E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, dunisiani! Ciao, dunisiani!